Come è cambiata la Sirenetta negli anni? Ciao, sono Valerio Novara. La Sirenetta è stata al centro di molte polemiche dopo la scelta della Disney di rappresentarla con un'attrice di colore nel nuovo live action che uscirà a maggio. Forse non tutti sanno però che il personaggio era già stato stravolto perché prende spunto dalla fiabba di Hans Christian Andersen del 1837 e in quella fiabba, prima che venne fatto il cartone animato più famoso della Sirenetta, quello dell'89, era rappresentata bionda e non con i capelli rossi, quindi già c'era stato un primo stravolgimento da parte della Disney quando venne effettuato il primo, la prima trasposizione cinematografica del racconto di Christian Andersen. La storia parla di Ariel, figlia minore di Retritone, talmente affascinata dal mondo in superficie da disubbidire puntualmente agli ordini del padre. Una sera, spiando una nave, Ariel si innamora a prima vista del principe Eric. La nave del principe si imbatte in una tempesta e Ariel lo salva da morte certa, ma fugge non appena lui si sveglia. Eric non ricorda nulla della sua salvatrice, eccension fatta per la sua voce incantevole. Intanto la perfida Ursula medita di riprendere il controllo sul regno di Atlantica, approfittando delle debolezze di Ariel. In cambio della sua voce, infatti, Ursula offre alla Sirena la possibilità di diventare umana per tre giorni e provare a conquistare il suo principe. Insieme ai suoi fedeli amici, Ariel raggiunge la terraferma, dove, stremata dalla fatica, viene soccorsa da Eric. Proprio mentre la ragazza cerca il modo giusto per dichiararsi all'amato, Ursula mette in atto il suo piano e prende le sembianze di Vanessa, un essere umano. Grazie alla voce sottratta ad Ariel, Vanessa riesce ad incantare Eric e lo spinge a sposarla al più presto. Il matrimonio tuttavia non si farà mai e Ursula viene poi smascherata da Ariel. La Sirena però non sa di essere caduta nella trappola della strega del mare. L'intervento di re Tritone la salverà, a condizione di perdere il controllo su Atlantica. Eric, risvegliato dall'incantesimo, decide di correre in cerca di Ariel. Il principe si troverà ad affrontare un nemico temibile che governa ormai tutti i mari, ma rischierà la sua vita per salvare Ariel, dimostrando al re che uomini e sirene possono amarsi l'un l'altro. All'epoca Ariel ricevette un'accoglienza controversa. Alcuni la criticarono per essere troppo devota a Eric, altri invece elogiarono la sua personalità ribelle, che si discostava totalmente da quello che erano state le principesse Disney fino a quel momento. Per la voce di Ariel venne scelta Jodie Benson, un'attrice teatrale, perché i registri ritenevano che fosse davvero importante avere la stessa persona che cantava e parlava nel film. Pensate che durante la registrazione della voce di Ariel, la Benson chiese che le luci in studio fossero oscurate, per avere la sensazione di essere davvero in profondità sotto al mare. Altra curiosità interessante riguarda il movimento dei capelli di Ariel, stato preso spunto dai filmati di un astronauta, Sally Ride, quando era nello spazio, mentre il colore rosso inizialmente i registi volevano rappresentare la sirenetta con i capelli biondi, come nella favola di Hans Christian Andersen. In realtà poi si capì bene che il colore rosso andava in contrasto con il verde della coda di Ariel e che era molto più facile da scurire rispetto al giallo sott'acqua. Il film ha vinto due premi Oscar, uno per la miglior colonna sonora e uno per la miglior canzone originale, in fondo al mar. E è stato dato merito alla sirenetta nell'89 di aver riportato la Disney, aver dato nuova vita alla Disney dopo, diciamo, i successi ma anche i fallimenti. C'era stato chi ha incastrato Roger Rabbit nell'88, ma c'erano stati tanti fallimenti commerciali fin dai primi anni 70 ed è per questo che con la sirenetta si parla di un vero e proprio rinascimento Disney. Ci fu poi una serie televisiva prequel che andò in onda dal 92 al 94, ambientata in un momento non specificato antecedente al primo film. La serie seguiva le vicende di Ariel, determinata a sventare i tentativi dei nemici che volevano impossessarsi del regno di Atlantica. Nel 2000 esce il secondo film della sirenetta, dove Ariel è la nuova regina del regno e ha dato alla luce una figlia di nome Melody. Quando la sicurezza di Melody viene minacciata dalla sorella di Ursula, Morgana, Ariel e suo marito Eric decidono di tenere Melody lontana dal mare e costruiscono un gigantesco muro per separarlo dal castello. Nel 2008 arriva il prologo della sirenetta, in cui vediamo una giovanissima Ariel che vive felicemente con suo padre, Tritone, sua madre la regina Athena e le sue sei sorelle maggiori. Mentre Ariel e la sua famiglia si dilassano in una laguna, una nave pirata si avvicina e tutti fuggono tranne Athena, che torna per recuperare un carillon che Tritone le aveva regalato, ma rimane schiacciata e uccisa sotto la nave. Il seguito Tritone, devastato dal dolore, bandirà tutta la musica da Atlantica e gitterà il carillon nell'oceano. Ariel e le sue sorelle cresceranno quindi dimenticando la musica e vivendo secondo le rigide regole del padre. Arriviamo infine al remake del film in live action, che uscirà a maggio al cinema e avrà come protagonista l'attrice di colore, Al Bailey. Ancora prima dell'uscita nelle sale, la pellicola è stata al centro di non poche polemiche a causa della scelta di rappresentare Ariel di colore anziché bianca, come nel film originale. Non c'è dubbio che la Disney, se ben ricordate come erano le varie principesse della Disney, tutte bianche, tutte perfette, tutte belle, abbia voluto rappresentare il personaggio di Ariel come una ragazza che è comunissima nel mondo e nella nostra società. E quindi anche dare la possibilità a una ragazza di colore di far vedere le sue capacità e di fare impersonare le ragazzine asiatiche di colore che hanno sempre visto nelle principesse Disney perfette bianche un modello da emulare, un modello perfetto alla quale non sarebbero potute mai arrivare per il colore della loro pelle. E forse abbia voluto dare la possibilità a queste ragazze, quindi agli utenti che vedranno il film, di vedere anche una luce di speranza e una luce di riscatto per un personaggio di colore che va a interpretare un'icona, se vogliamo, dei film d'animazione della nostra storia e con i quali siamo cresciuti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se siete d'accordo con la scelta della Disney di affibbiare ad un'attrice di colore come Al Bailey, che tra l'altro dovrà anche cantare oltre che recitare, quindi c'era anche la necessità di prendere un'attrice che sapesse sia cantare che recitare per interpretare un personaggio come la Sirenetta, che è un'iconica ragazza bianca e con i capelli rossi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube Ciac e Azione e di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie di più. Al prossimo video!